A noi chiediamo giustizia da 20 anni, ci sono stati, in primo grado abbiamo vinto, in secondo grado abbiamo vinto, adesso aspettiamo la decisione della Corte di Cassazione. Era il 28 gennaio 2003 quando il pompiere Simone Mazzi venne calato con una barella per soccorrere un camionista finito fuori strada lungo la statale 73 e ferito alla schiena. Qualcosa però andò sorto, il cavo si ruppe e il bozzetto finì sulla testa del vigile del fuoco 29enne, uccidendolo sul colpo. La giustizia civile ha stabilito la responsabilità del datore di lavoro ma il ministero si è opposto due volte e si attende ormai dal 2022 la Cassazione. Avere giustizia è sicuramente il riconoscimento più importante che aspettiamo e che vogliamo. Il fratello adesso ha scritto ai ministri di giustizia e lavoro. Portiamo avanti una vicenda processuale, una causa civile contro il ministero da 20 anni perché vogliamo giustizia. È stato dimostrato nelle due cause civili che Simone era aggangiato ad una gru che era malfunzionante, che era fuori da ogni misura di sicurezza, che era sostanzialmente non a norma e su cui non veniva fatta neanche manutenzione. Quindi era una gru che era un pericolo per tutti i vigili del fuoco e infatti per Simone si è trasformata in una tragedia. A Simone Mazzi, medaglia d'oro al valore civile, il comune di Arezzo adesso è intitolato una piazza a pochi passi dalla caserma dei vigili del fuoco. Il ricordo diventa ancora più sentito proprio il fatto che tra una settimana ricorre la festività della nostra santa padrona Barbara, il 4 dicembre. E come ogni anno andremo a ricordare anche in quella occasione tutti coloro i quali ci hanno lasciato nell'adempimento del proprio dovere. Questa targa è un riconoscimento non solo a Simone Mazzi ma anche a tutti gli uomini e le donne che purtroppo sono morti in questi anni nel compiere il loro lavoro. E anche un auspicio e soprattutto una speranza che veramente si possa finalmente trovare il modo di tutelare e salvaguardare noi lavoratori durante lo svolgimento del nostro lavoro.